buongiorno escursionisti questa mattina mi trovo a mezzoldo anzi più precisamente mi trovo nei pressi del rifugio madonna delle nevi e la mia intenzione di oggi è quella di fare un tratto del sentiero delle casere non farò tutto il sentiero anche perché nel periodo invernale non so quanta neve c'è su e quindi la mia intenzione era quella di fare una ciaspolata e cominciare a visitare un po questa zona qui comunque quando arrivate qui nei pressi del rifugio avete questo comodissimo parcheggio dove poter lasciare la macchina anche nel periodo invernale eccolo qui il primo cartello con le prime indicazioni che indica comunque che sono sul sentiero delle casere e adesso devo attraversare questo punticello e quell'altro lì per andare a recuperare il sentiero 115 15 Devo dire che il sentiero in questo primo tratto qui è abbastanza bene, come vedete l'interno di questo bosco qui, e anche i cartelli non mancano, ne ho trovati un bel po' sotto lì. Devo dire che oggi la giornata è parecchio calda, stranamente, è una cosa, ho fatto giorni freddi, ci saranno forse 3 gradi, 3-4 gradi, cioè per il periodo che siamo è fin troppo calda. Alla prossima Alla prossima Alla prossima Allora ho deciso di montare su le ciaspole anche perché in città ti si sprofonda e quindi, visto che comunque mi devo portare dietro e non lo usavo era da scegli. Allora adesso guardate, sono su questa aggipabile, mi porta su comodo, il periodo invernale è comodo, però devo dire che anche qui nessuno, praticamente nessuno, anche perché sono proprio, ma forse ho detto prima, forse non l'ho detto, non lo so, si avvicina al passo San Marco e quindi diciamo che la massa sono tutti lì su al passo e io vado alla parte opposta come sempre, non dovrei mancare tanto alla prima baita. Allora 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 E sono arrivato alla prima baita, eccola lì, adesso andiamo a vedere qual è. Adesso do la baita, poi devo proseguire ad andare lì e devo buttarmi all'interno di quel bosco lì, perché la prossima baita è sopra lì e l'altra invece dovrebbe essere dietro di là. E quello lì, se non sbaglio, se non dico stupidate, dovrebbe essere il Monte Cavallo perché dietro di là ci sono le piste da sci di San Simone, quindi fa apporto quella zona lì. E sono arrivato qui alla Casera Terzera a 1604. Eccola qui la Casera, guardate che bella, bella tenuta bene, in ordine, anche perché nel periodo estivo qui vengono su, penso a produrre il formaggio. E quindi chissà, adesso non ve lo so dire, penso che nel periodo estivo se passate qui e trovate chi fa il formaggio penso anche che lo vendano. Quindi se fate il giro qui nel periodo estivo, una scappatella qua, verriterei su una bella forma di formaggio, non sarebbe male. Ho, 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 ho! Ho, ho, ho! Ancchi! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti